Cari fratelli e sorelle, venerdì ricomincerà la scuola. La scuola è anche una grande opportunità, un grande dono. Mi viene subito da pensare a quanti bambini, quante famiglie, quanti ragazzi oggi non hanno ancora nel mondo la possibilità di andare a scuola. Un pensiero anche agli studenti, alle famiglie del Marocco, della Libia o di alcune zone di guerra, l'Ucraina, la Russia, che hanno visto le loro scuole distrutte. Noi abbiamo la fortuna di poter andare a scuola. I dati ci dicono che sono 24.000 i bambini, i ragazzi, i giovani che nella provincia di Rimini varcheranno di nuovo la porta delle aule scolastiche. Con loro anche tanti dirigenti, tanti docenti, personale tecnico-amministrativo e tante famiglie, per cui i nonni, i nonni, i genitori, insomma. Per cui la scuola non coinvolge soltanto le allunie e i professori, ma penso che coinvolge tutti noi, perché è un luogo di educazione, di formazione così importante per le giovani generazioni. Permettetemi di dire che, mentre ho un caro saluto, una benedizione a tutti, è un augurio che la scuola è anche un luogo dove si può sperimentare il Vangelo, dove si può sperimentare l'amore, l'attenzione, a chi è più fragile. Ho in mente, così, anche proprio per i ragazzi, essere capaci di essere attenti a chi magari a scuola, tra i propri compagni di classe, ha delle difficoltà, oppure all'amicizia che può nascere tra le famiglie, specialmente dei bambini più piccoli, quanto ci si possa aiutare. Nella nostra diocesi c'è anche una bella esperienza, che è quella della convivenze, per i ragazzi più grandi, che vivono per un po' di tempo insieme e studiano insieme. Li ho visti anch'io con i miei occhi studiare, è un'esperienza bellissima, ma anche tanti dopo scuola, studio assistito, in cui magari anche i giovani universitari possano prendersi cura di chi è più piccolo, oppure... Insomma, la scuola è veramente un luogo molto importante in cui si può respirare il Vangelo. Certamente il Signore Gesù è presente, Gesù stesso andava a scuola, la Vergine Maria e San Giuseppe erano genitori di uno scolaretto, di un alunno, dell'alunno Gesù, per cui sentiamo proprio la loro presenza anche tra i banchi di scuola. Buon anno scolastico a tutti e una benedizione di cuore.